ecco dopo di che ho rotto il mio grazie a tutti 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 ciao a tutti e si avevo un paio di problemi col mio pc per questo non sono riuscito a fare dei video ma oggi eccoci di nuovo qua in un bel boschetto e che cosa abbiamo trovato per primo? ecco un mezzo ferro di cavallo speriamo che ci porta fortuna ok al prossimo ritrovo ecco un bellissimo posto qua un bellissimo boschetto adesso è un'ora che sto girando in questo boschetto e finora ho trovato purtroppo solo chiodi e fil e un po' di ferro e mezzo ferro di cavallo che non mi sta portando fortuna mi sa adesso andrò lassù a vedere e farò un giretto di là ok allora speriamo che troviamo ancora qualcosa un ca va ride e dopo parto ed ecco un piccolo proiettile ho di nuovo una bella salitina pericolosa qua adesso seguirò qua vedete dopo di che ho rotto il mio metal sono scivolato e si è spaccato sto cercando un po qua in questo prattino e ho trovato un piombo ok allora faccio continuare ecco purtroppo ho dovuto finire la mia ricerca così col metal rotto proprio non è divertente ok allora aggiungerò forse un pezzo di un altro video quando il metal è di nuovo apposto ok ciao intanto